Ma con Beppe sono le sfide più belle in assoluto che ho fatto nella mia vita sportiva. Intanto lui ha duplice ruolo, organizzatore della gara più impegnativa e importante d'Europa, con un'organizzazione mozzafiato, e dover correre, una cosa difficilissima nel concentrarsi, perché io stamattina stavo a dormire, lui era probabilmente già con tutto il team a organizzare gara e organizzazione. Quindi complimenti a lui e all'organizzazione Super. Il Bondone è la gara più bella secondo me al mondo insieme alla Pikes Peak, è una sfida epica ogni volta. Poi i marchi più belli del mondo, Ferrari, Porsche, Lamborghini che si sfidano qui, ce l'abbiamo fatta questa volta. L'altra volta Beppe e io ci alterniamo, bellissimo. Secondo te quel secondo e mezzo dove lo hai guadagnato, cosa ha fatto la differenza? No, probabilmente la macchina con motore turbo nel finale ha qualche cosina in più che esprime ad alta quota, per cui la Porsche è più agile in basso e nel guidato noi abbiamo qualcosa in più nella spinta alle uscite dei tornanti. Anche le gomme oggi hanno avuto un ruolo importante? Beh, Michelin contro Avon e Pirelli, devo dire che abbiamo sfatato anche il mito delle Avon che decadono qui, siamo arrivati, abbiamo vinto, è stata una vittoria importante. Una gara sempre comunque particolare al di fuori degli schemi, possiamo dirlo. È la gara più bella del mondo per me. La battaglia si rinnova, però io quest'anno avevo la macchina che non ho mai usato qua in Bondone, per cui era il primo anno di sviluppo, ho cercato di metterci tutta la mia massima esperienza e quello che mi dà anche un po' di orgoglio è che delle Porsche sono quelle che ho fatto il miglior risultato, sono arrivato vicinissimo al secondo e mezzo a quello che è o due da Lucio, che loro hanno una cavalleria spaventosa perché se vado a vedere nel primo tratto ero molto più veloce e nella parte dove c'è i ritilini e la velocità loro hanno motore e mi è andato via. Comunque, chapeau che mi è stato davanti per questa volta e l'importante è che siamo arrivati qua, un pubblico bellissimo e un'organizzazione anche, che sono il presidente, bellissima, per cui non posso dire altro. E adesso facciamo festa qua e cerchiamo di divertirci tutti quanti per poter fare la prossima volta e migliorarci ancora nella nostra gara di casa. Ecco, appunto, come hai sottolineato, è un'edizione importante perché tornava al pubblico dopo due anni, voi che siete passati lungo tutto il percorso e ne avete trovato tanto, l'entusiasmo è tornato a quello del 2019? L'entusiasmo forse c'era di più quest'anno, perché io venerdì sera ero un po' preoccupato perché ho visto questi ragazzi, bellissimo, era come una cartolina, vedi questi ragazzi con i divani, ho visto dei divani rossi, gialli, bellissimo è stato, si sono fatti anche i palchi. Venerdì sera sono passato io e gli ho detto, ragazzi, datemi una mano, cercate di stare corretti dentro le transene dove è per la sicurezza, che loro possiamo fare la gara in sicurezza. Aiutatemi, gli ho dato qualche pass, qualche berretto e loro sono stati veramente, veramente bravi a stare con noi per poter fare la gara nel miglior modo e sicurezza possibile. Ecco, una delle sfide del futuro sarà anche quella di cercare di completare le prove, che è una cosa molto complicata con un circuito, con un percorso così lungo come questo. Allora, stanotte, perché io oltre che fare la gara, mi sono svegliato alle 5 per cui avevo altri impegni, mi è venuta un'idea, adesso dovrò proporla, però o che ci mettiamo, che partiamo il venerdì a fare le prove, fare venerdì sabato, perché se no qua a Trento non riusciremo mai, mai a fare le due prove. Adesso organizzeremo un tavolo rotondo con tutte le istituzioni, provincia, comune, questura, vigili, tutto e secondo me l'unico sistema che possiamo fare è questo, perché per noi la Trento Bondone è la gara della gara, è come uno che va le manso a fare il Pace Peaks, questa deve essere una gara che uno viene il mercoledì, deve esserci le sfilate le macchine, far festa per i ragazzi, dobbiamo cercare con tutta l'istituzione di fare una cosa fantastica, cercare di fare il massimo. Io ci metterò il massimo impegno e cerco che tutti mi aiutino per fare questo. Grazie.